David Umek al termine del match contro la Cona del Reggio Emilia, purtroppo è arrivata una sconfitta, comunque un risultato che non cambia la situazione almeno per quanto riguarda la classifica. Che tipo di partita è stata questa sera, sei partito titolare? Per noi non cambia molto il fatto di classifica, è stata una partita che alla fine ce la siamo giocata punto a punto, loro forse sono un po' più freschi, noi abbiamo fatto la Coppa Italia una settimana fa, una partita in trasferta lunga e poi questa qua. E soprattutto stiamo preparando fisicamente già i play-off, quindi il mister ha dato spazio anche a me e a Mancini, un po' a tutti, anche per far rifiatare i titolari che giocano sempre. E niente, peccato, brucia comunque, anche se non ci cambia molto però, però brucia comunque sempre una sconfitta e una sconfitta, bravi loro e testa già la prossima. Come ti sei trovato in queste due partite in cui sei partito titolare, ricordiamo anche contro Lago Negro, appunto sei partito diciamo sin dall'inizio, come ti sei trovato? Hai fatto comunque un'ottima prestazione stasera a 15 punti. Intanto grazie, è stato bello, mi mancavano un po' le sensazioni, le emozioni di giocare titolare, poi è stata anche una soddisfazione per il lavoro che abbiamo fatto tutto quest'anno, forse un po' che si nota un po' meno da fuori, però ripaga, il lavoro ripaga anche noi che siamo in panchina. E niente, sono contento per queste prestazioni e aspettiamo i play-off con ansia, sempre lavorando duro. Ecco, a proposito dei play-off, adesso su che cosa vi concentrerete secondo te, come allenamenti, come preparazione? Allora, abbiamo impostato già il lavoro fisico con il nostro preparatore e forse abbiamo pagato anche un po' questo, il fatto di essere un po' stanchi fisicamente, però è un lavoro che ci sta, che bisogna farlo, abbiamo la fortuna, la possibilità di farlo ben prima di altre squadre, quindi di arrivare con una preparazione molto migliore rispetto agli altri e quindi sfruttiamo questa possibilità al massimo. Ecco, due parole anche sulla Coppa Italia, per te è stata la tua prima Coppa Italia, come ti senti? Ti senti comunque soddisfatto del percorso fatto fino adesso e di questo trofeo raggiunto? Sì, sì, è stata una soddisfazione incredibile, la prima partecipazione mia, c'era un'atmosfera incredibile, anche senza pubblico, peccato, però era comunque un'atmosfera che si sentiva che era una partita diversa, è stato bello poter alzare la Coppa con i miei compagni e sono felice. Grazie David Umec, continua così e un bocca al lupo per il proseguimento. Grazie mille, grazie mille.